La sua lipidine di extossico alimentato dall'alcol e dalle affetamine lo tormentava senza rimorsi col suo desiderio inappagato. Puntini, puntini, puntini. S Dec web le contenere le SWEDTY Puntini, 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 punti, puntini, 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 punti, puntini. La sua libre ideoul beimЯmesi E con questo, Mark Ranton si era innamorato. Scusa, scusa, non voglio scocciarti, ma sono rimasto molto colpito dalla sicurezza e dallo stile con cui hai affrontato la situazione, allora mi sono detto, ecco, questa ragazza è speciale. Grazie. E come ti chiami? Diane. E dove te ne vai, Diane? Me ne vado a casa. Ah, e dov'è? E dove vivo. Bene. Perché? Beh, ti accompagna se vuoi, ma guarda, non ti prometto niente, è chiaro. Se tu trovi davvero che questo approccio di solito funziona, fammi indovinare, non l'hai tentato prima. Infatti, normalmente non parli con le ragazze, giusto? La verità è che sei un ragazzo sensibile e calmo, ma se fossi pronto a correre, tu potrei scoprire il tuo nato nascosto. Brillante, avventurosa, appassionato, tenero, leale. Taxi! Un po' cattivo, un po' pazzoide, ma hey, non è questo che intrigano le ragazze? Eh? Beh, che hai bello? Hai perso la lingua? Ho lasciato una cosa... Insomma, sali o no? Sì! 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 Sì!